200 secondi per parlare di Moise Ken alla Fiorentina. Parliamo di un giocatore che ha fatto benissimo da giovane, quando è uscito, ha esordito quasi nella Juventus, anche a livello giovanile, ma soprattutto anche in Serie A. Aveva fatto un bellissimo finale di stagione e poi si era consacrato, pensavamo al Paris Saint-Germain, in una squadra in cui c'erano Mbappé, Neymar, Icardi, anzi in quella stagione fece anche meglio di Icardi, se vogliamo, dal punto di vista del rapporto goal-presenze. Faceva tanto l'esterno. Poi tornato in Italia, ha faticato, ha continuato a faticare. Poi gli ultimi anni alla Juve era anche un'alternativa, ha giocato poco, quando ha segnato pochissimo, quando ha segnato gli erano annullati, a volte anche forse ingiustamente, però insomma in generale è un giocatore che secondo me non lo boccerei, non lo boccerei totalmente, perché comunque io ho sempre visto delle qualità notevoli, ha comunque una velocità importante, secondo me può essere un giocatore che forse con Palladino è vero che potrebbe anche partire a punta centrale, però secondo me potrebbe giocare anche come trequartista, quindi giocando trequartista che poi si allarga, perché comunque sappiamo che i trequartisti di Palladino spesso si invertono con il terzino, una cosa del genere potrebbe succedere a Nico Gonzales, potrebbe succedere anche a Ken se dovesse giocare lì, però potrebbe anche giocare come punta centrale. Ma al di là di questo, secondo me comunque in generale se parte dall'esterno è meglio, piuttosto che punta centrale, quindi fare proprio il classico nove non è il suo ruolo ideale, non credo che sia il suo ruolo ideale. Però al di là di quello ci vuole anche una svolta proprio mentale da parte sua, avere la fiducia della squadra, della società, dell'allenatore e lì potrebbe tornare, potrebbe fare il vero Ken che magari non sarà un fenomeno, non sarà un giocatore che farà sempre 20 gol in campionato, però un giocatore che secondo me in doppia cifra ci potrebbe anche arrivare, perché comunque ha i numeri, ha anche il tiro importante, però come detto, secondo me se Palladino lo sfrutterà molto come trequartista che gioca sull'esterno potrebbe essere il suo ruolo ideale. E detto questo, insomma, è chiaro che resta una scommessa, insomma, oggi non vi direi puntate 50, 20, 25 crediti su 250 su Ken, però non penso neanche che qualcuno ve lo tirerà a quelle cifre, quindi magari se vi tenete tra gli 8 e i 12, 13 può essere una bella spesa, perché secondo me non è un giocatore così scarso come forse molti pensano.